C'è stato un confronto lungo e devo dire anche aspro. È durato nove ore, si è andati avanti a singhiozzo e diversi sono stati anche gli strappi. Il vertice sull'ex Ilva di Taranto, terminato ieri notte al Ministero del Lavoro, ha riunito per la terza volta in un mese il ministro Luigi Di Maio, i sindacati e i rappresentanti dell'ArcelorMittal. Siamo aperti al dialogo, ha scritto l'azienda siderurgica in una nota, ma è fondamentale che tutte le parti si concentrino sulla ricerca di soluzioni. Convocato dopo la morte dell'operaio, travolto da una tromba d'aria insieme alla sua gru la scorsa settimana, il vertice ha visto la sicurezza al centro del tavolo, tema su cui il ministro ha ribadito di non voler fare sconti, posizione che ha trovato d'accordo anche le maggiori sigle sindacali. Siamo riusciti a far accettare ad ArcelorMittal la necessità di presentare un piano di investimenti straordinario rispetto a quello che avevano immaginato, soprattutto sulle manutenzioni. E poi ancora una task force fatta di organi ispettivi che saranno all'interno dello stabilimento per verificare le condizioni di insicurezza e le condizioni pericolose che purtroppo esistono. E la possibilità infine di adottare nuove soluzioni tecniche, come per esempio il controllo remoto, per ridurre l'esposizione dei lavoratori ai rischi del maltempo. Tutto riportato in queste quattro pagine di intesa venute fuori dal faticoso vertice sulle quali sono scritti anche i prossimi appuntamenti. Il primo è in agenda già domani, 17 luglio, e si comincia proprio dall'area più a rischio, quella portuale che in pochi anni ha visto morire già due suoi operai.